ciao a tutte ragazze benvenute in questo nuovo video shopping perché vi farò vedere tutto ciò che ho preso in questo weekend sia in centro a modena che alla dj o di verona e in più vi farò vedere anche che cosa ho acquistato da primark finalmente dopo circa due anni ci sono riuscita ad andare e quindi adesso sono pronta per farvi vedere tutto quello che ho preso ma mi raccomando se non l'avete fatto iscrivetevi al canale e se vi va seguitemi anche su instagram mi trovate come nel mondo di ale direi di partire subito prima vi faccio vedere che cosa ho acquistato in centro a modena allora partiamo subito con questo sacchettino qui è del negozio poggioli vende tutte scarpe praticamente e lo trovate ovviamente perché è della zona in centro a modena e ho acquistato un paio di sandali con il tacco adesso ve li faccio vedere eccoli qui come vedete è un sandalo con il tacchettino non è altissimo e poi ha tutta questa lavorazione sul dorso del piede sul collo e mi piace un sacco poi dietro non si vede il tallone e questa qua l'ho pensata e per qualsiasi tipo di evento ma anche per un semplice aperitivo comunque il tacco non è esagerato ma non è neanche una scarpa bassa vorrei iniziare a rimettere i tacchi e ho iniziato adesso ad acquistare questi sandalini qui che comunque non sono eccessivi ma rendono comunque la figura un pochino più slanciata questi qua sono made in italy sono in vera pelle e li ho pagati 50 euro perché era l'ultimo modello quindi questo qua è il primo acquisto in centro a modena io e la mia amica giada siamo state anche da zara ho preso delle t-shirt che sono veramente carine e le ho pagate poco allora la prima è questa qui semplicissima bianca ha i volant qua nelle nelle maniche è molto molto morbida non è di quelle t-shirt aderenti allo scollo barca semplicissimo non è scollata come vedete e questa qua l'ho pagata 6 euro e 95 e ho preso una s io queste qui le indosso molto ad andare a lavorare ma anche per tutti i giorni e sempre dello stesso modello ho preso la versione gialla che è identica a quella bianca anche questa costa 6 euro e 95 e ho preso una s ed è molto molto carina queste qui se non sbaglio da zara ci sono tutti gli anni infatti l'anno scorso l'avevo presa azzurra e rosa e quest'anno l'ho presa bianca e gialla queste qua ragazze sono belle anche con un pantalone sempre quello di zara che sta a 19 99 quello che io avevo preso bianco che ve l'avevo fatto già vedere secondo me stanno benissimo insieme in accoppiata comunque non costano tanto e poi la mia amica giada questa l'ha vista lei mi ha fatto vedere questo modello che è fatto in questo modo con questa fantasia qua che adesso ovviamente io quando giro i video e perdo gli aggettivi sicuramente sapete come si chiama io in questo momento ho un vuoto di memoria perdonatemi ragazze ma nonostante che sono due anni e mezzo che faccio video ogni volta che sono davanti alla videocamera è così anche questa a lo scollo a barca non è scollata rimane un pochino più corta ma non è crop top quindi con un pantalone a vita alta sta benissimo in macramè ecco mi è venuto in mente adesso giusto correggetemi se sbaglio comunque è veramente molto molto bella questa qua costa 15 euro e 95 e ho preso una s da zara ho preso questo poi sono stata alla di geo esattamente domenica e ho preso da piazza italia questo cardigan diciamo questa giacchettina non so adesso come si chiami molto molto carina di questo color ghiaccio che si può abbinare facilmente con tutto poi a questi bottoncini qui e a questi volant diciamo molto molto piccoli che vanno a segnare tutta la parte con i bottoni che a me piace tanto questa qua ovviamente si può mettere sempre sopra a una t-shirt è adatta in queste mezze stagioni quindi l'ho presa subito appena l'ho vista e l'ho pagata 14 e 95 ed ho preso una s eccola qua mi piace tantissimo poi a sotto è fatta così un pochettino più stretta e anche i polzini quindi top questa qua è molto molto versatile poi siamo passate anche da zuiki e ho preso questo set di mollettine che ho pagato 3 euro e queste io le perdo praticamente sempre e quindi ogni anno le devo ricomprare poi ho preso questa canotta che rimane molto elegante è fatta tipo in tessuto pesante però ovviamente non è pesante per farvi capire eccola qua e è ovviamente per questa estate è dorata io l'ho vista anche da mango era fantastica però costava di più questa qua invece l'ho pagata 10 euro da zuiki e mi piace veramente tantissimo questa qua per un aperitivo per una serata è fantastica poi ho preso sempre pensando magari ad un aperitivo ad una serata quest'estate quest'altra canotta qua che secondo me rimane anche questa molto elegante ma si può utilizzare anche di giorno poi c'erano anche diversi colori e questa qui l'ho pagata 13 euro è taglia unica anche questa ragazze è taglia unica quindi non c'è una taglia specifica e questa qua è a costine semplicissima ed ha lo scollo a v vedete queste qui le ho pensate proprio per una serata perché altrimenti ogni anno mi ritrovo sempre a comprare cose per andare a lavorare e poi per uscire ho sempre quelle da anni quindi ho preso queste cosine qua poi passiamo da bata e ho preso finalmente quello che stavo cercando da tantissimo allora a me piacciono le valentino però ovviamente costano un pochino di più rispetto a queste qui di bata e ho preso queste qua a punta hanno il tacchettino ma non è esagerato e poi hanno le borchette dorate ragazze sono fantastiche queste scarpe appena le ho viste le ho provate le ho fatte vedere alla mia amica christian hanno tutti approvato poi le ho prese di questo color begiolino che comunque si abbina con tutto non le ho volute prendere nere ma se vi piacciono ci sono anche nere perché mi piaceva proprio questo colore però anche nera veramente molto molto bella ed è molto molto comoda io ho un 36 e mi va perfetta le avevo viste anche della guess praticamente erano sempre a punta però erano fatte a sabò e con i lacci che poi si stringono al polpaccio ed erano bellissime avevano il logo della guess però costavano un pochino di più e siccome hanno una forma particolare perché vedete che è a punta non mi andava di spendere veramente tanto e ho pensato di prendere queste qua da bata che costano comunque 54 euro e 99 però secondo me fanno una bella figura poi adesso è da un po che arriva alla punta e mi piacciono sono secondo me molto eleganti carinissime sia da giorno che da sera per un aperitivo bellissime e le trovate da bata se vi piacciono ma adesso passiamo da primark vi dico già che ci sono due bustoni quindi iniziamo da questo intanto vi dico quanto speso così potete un po capire allora ho pagato tutto 83 euro e 50 partiamo dalle prime cose che capitano ho preso questi due reggiseni sportivi che hanno le coppette e dietro sono fatti così per farvi capire questi qua appunto sono dei reggiseni sportivi c'erano di diversi colori quindi potevate scegliere se prenderlo bianco e nero grigio e bianco oppure grigio e nero io l'ho preso grigio e nero non lo so perché comunque sono ottimi e li ho pagati ragazzi adesso vi dico anche prezzi singoli vediamo vediamo gli ho pagati 10 euro 2 quindi verrebbero 5 euro l'uno ho preso sia io che crei i calzini questi qua che costano 3 euro e 57 paia e praticamente sono adesso vi dico così se vi può interessare andate direttamente 63 per cento di cotone 34 per cento di poliestere e basta e 3 per cento di elastane non ho più comprato quelli in cotone sapete che ve l'avevo chiesto però purtroppo sono quelle cose che stevano cercare perché non le vendono dappertutto ma per il momento ho preso queste qua poi ho trovato solo questo ombrello perché mi serviva un ombrello e però non volevo pagarlo tanto e ho preso questo qua non mi piace molto perché è nero ma meglio che niente visto che sta piovendo praticamente tutti i giorni io vado al lavoro in corriera e non posso non avere l'ombrello quello che ho rosa si è praticamente distrutto e quindi l'ho preso nero questo qui ragazze costa 6 euro e ha il manico fatto così proprio ad ombrello in vista dell'estate abbiamo preso due teli che adesso io proverò a farveli vedere allora sono fatti così questo è il mio l'ho preso per me quindi a queste rigone beige e bianche quando l'ho visto ovviamente ho detto no questo è mio cioè sono i miei colori e quindi l'ho preso immediatamente questo qui ragazze è proprio la misura adatta a quella che cercavamo noi allora intanto vi dico il prezzo 12 euro è 100% cotone ed è 100 per 180 quindi perfetto per per noi c'era anche la versione più piccola però costava di meno ma ovviamente no cioè mi serve questa questa misura qua per forza e l'etichetta praticamente è questa quindi questo sarà il mio nuovo telo per quest'anno l'ha preso anche Cree e lui si è scelto questo qui che è verde e bianco a queste righe verde petrolio verde menta e bianche e è fatto così è tutto tutto così anche questo pagato 12 euro e è 100 per 180 anche questo qua 100 per 100 cotone quindi materiale top prima busta di primark vuotata passiamo all'altra allora non potevo che non prendere un pigiama eccolo qua della disney questo qui è di bambi adesso lo apriamo ma vi dico che ho preso un xs perché primark veste un pochino grande e quindi già ho avuto esperienza in questo e con la s praticamente i pantaloni non mi stanno e quindi ho dovuto prendere un xs questo qui è il pigiama corto quindi manica corta pantalone corto pagato 9 euro la magliettina è questa qua proprio con bambi è bellissima 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 poi c'è anche la farfalla la scritta disney vediamo il materiale così almeno vi aiuto se volete fare un viaggio almeno già sapete io non ci vedo ragazze allora 80 per cento cotone 20 per cento poliestere quindi come materiale secondo me è perfetto per 9 euro direi che è ottimo questo è il pantalone purtroppo come lunghezza è un pochino corto poi soprattutto per me che faccio i video comunque in estate faccio tante riprese che magari sono in pigiama con i pantaloncini corti e se sono troppo corti poi diventa un problema comunque state attente quando andate a vedere i pigiami lì dove ci sono proprio tutte quelle isole di pigiami perché ho visto che ce ne sono tanti bellissimi ma sono tipo in microfibra quindi se non mi piace la microfibra perché vi trovate bene con il cotone prima di acquistarlo leggete l'etichetta perché io ne stavo prendendo uno che era fantastico però era tutto in microfibra e a me sinceramente non piace perché preferisco più il cotone e quindi ho preso questo qua di bambi che mi piace un sacco poi ecco qui gli altri calzini che vi dicevo questi qua per per me per christian poi ho trovato questi cestini ad 8 euro 2 sapete che io amo i cestini e questi qua sono fantastici fatti così in paglia e poi magari in un altro video vi farò vedere dove li andrò a posizionare hanno anche le le maniglie lo spazio per inserire le mani e sono molto molto belli vi dico le misure se ci sono scritte ovviamente l'ora 26 per 21 per 10 quindi quello più grande mentre quello più piccolo è 20 centimetri per 16 per 8 e è 100 per cento alga marina come materiale christian ha preso anche i calzini in versione nera e questi sono 63 per cento cotone 34 per cento poliestere e 3 per cento e la stand quindi praticamente come quelli bianchi poi ragazze ho preso lo zaino no non devo andare a scuola ma praticamente a me serve uno zaino per andare a lavorare nell'altro video vi ho fatto vedere che cosa porto nella mia borsa da lavoro però mi sono resa conto che andando con l'autobus e a volte faccio delle giornate praticamente fuori ho bisogno di comodità e questo qua per me la rappresenta perché è uno zaino poi alla tasca qua esterna a quest'altro taschino che si può staccare perché ha il gancio a una tasca qui laterale e ha anche il porta ombrello oppure porta acqua borraccia quello che volete poi qua dietro è fatto molto bene si apre in questo modo è a sacchetto e dentro ha anche lo scomparto se si vuole mettere la roba piccola questo qua per me rappresenta proprio la comodità poi andando in corriera a volte nell'orario di pranzo quando torno ci sono ovviamente tutti i ragazzi della scuola e la borsa avendola a spalla mi pesa tantissimo e l'appoggio per terra e sinceramente appoggiare una borsa per terra non mi va perché faccio anche fatica a lavarla non so come spiegarvi cioè mi dispiace poi quella della cucchia è anche buona come borsa e ho preferito lo zaino e questo qua l'ho pagato 16 euro e è praticamente beige quindi anche come colore è il mio praticamente sapete che io amo i beige il tortora sono più amante del beige che del grigio è voi siete più team grigio o beige fatemi sapere qua sotto e quindi appena l'ho vista l'ho presa e poi non costa tantissimo quindi se l'appoggio per terra non mi dispiace ma direi che essendo uno zaino non ho la necessità di appoggiarlo per terra questo è tutto lo shopping che ho fatto in questi due giorni quindi direi che ci ho dato dentro era da tanto che non lo facevo sono super soddisfatta di tutto quello che ho preso e speriamo che con le scarpe mi trovo bene comunque se vi interessa ve lo posso far sapere magari più avanti in un altro video e vi ringrazio per aver guardato questo video spero di avervi intrattenuto e se vi va mi raccomando iscrivetevi al canale e ragazze noi ci vediamo al prossimo video vi mando un bacione enorme ciao